Puoi cambiare il metodo di pagamento scelto in fase di acquisto di un servizio Aruba in ogni momento e pagarlo direttamente dalla tua area clienti. Se l'ordine da pagare è uno tra PEC, firma digitale, SPID, fatturazione elettronica o un altro servizio certificato, collegati alla tua area clienti andando su areaclientipec.it. Inserisci lo username del tipo 123456chiocciolaruba.it, la password e prosegui su Accedi. Clicca su Gestisci in corrispondenza del servizio che vuoi pagare. Seleziona Paga in corrispondenza di un ordine in attesa di pagamento. Nella pagina che si apre, puoi scegliere di pagare online tramite carta di credito o account PayPal, oppure visualizzare le coordinate bancarie per effettuare un bonifico bancario, scaricando il bollettino precompilato. Per visualizzare le coordinate bancarie, clicca su Estremi bonifico bancario. Invece, se vuoi scaricare il bollettino precompilato, clicca su Download bollettino precompilato. Successivamente, clicca la voce Genera in corrispondenza dell'ordine da pagare. Qui è possibile scaricare direttamente il bollettino, oppure inserire l'indirizzo e-mail sul quale si desidera riceverlo. Per pagare con carta di credito o PayPal, è possibile cliccare nei relativi metodi presenti sul menu, oppure dalla Home. Seleziona il metodo di pagamento scelto dalla sezione Paga un ordine online e clicca su Paga subito. Il numero dell'ordine comparirà automaticamente. Continua cliccando su Procedi. Puoi scegliere se usare una carta di credito o un account PayPal già utilizzato, oppure inserirne uno nuovo. Cliccando su Procedi, in entrambi i casi, sarai reindirizzato su un server sicuro dove eseguire la transazione. Grazie. 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 Grazie.